Prosegue la campagna adesioni per il servizio gratuito di trasporto a chiamata di disabili ed anziani. Dopo il rinnovo per la terza volta consecutiva della convenzione tra il comune di Sulmone e l'azienda milanese PMG, progetto mobilità garantita, lo scorso 27 dicembre l'Aggiunta Ranalli ha approvato una delibera che avvia le procedure per l'affidamento del servizio. L'iniziativa prevede tramite la cooperativa Nuovi Orizzonti Sociali il trasporto di persone con gravi disabilità con un pulmino concesso incomodato d'uso gratuito. I costi dovranno essere sostenuti da sponsor privati che avranno la loro pubblicità scritta sul mezzo di trasporto. Si può contribuire con somme minime di 250 euro annui, da pagare anche con rate mensili di 50 euro. A curare l'organizzazione e la coordinatrice per il Centro Sud Italia della PMG, Alda Sabina Antolini, che dopo l'appello lanciato nel novembre scorso in una conferenza stampa insieme al vice sindaco Luciano Marinucci va avanti nel reperimento delle risorse economiche. Sta andando tutto bene, commenta Marinucci, che attende però la conclusione del lavoro, dopodiché verrà annunciato l'avvio del servizio anche per il 2014. La Convenzione ha rinnovato il servizio per altri quattro anni.